Ciao, mi chiamo Caterine Savini, sono nata il 22 giugno di 2002 e ho 14 anni. Sono italiana, sono alto 1,75 m e ho cominciato a giocare 4 anni fa in Italia. Sono centrale opposto e il mio sogno più grande sarebbe arrivare alla Serie A italiana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.